Le storie delle persone spesso si somigliano e si ripetono nel tempo con tenera e feroce puntualità. Questa è la frase che ho voluto mettere nella prima pagina del mio nuovo romanzo L'esplosione, edito da Libero di scrivere, perché effettivamente penso che sia la chiave per la lettura di tutto il romanzo. Per quanto questo romanzo sia inserito, giustamente, in una collezione di Jalien Noir, lo definirei piuttosto un romanzo del mistero, perché c'è un mistero al centro della trama, un romanzo d'inchiesta, perché effettivamente c'è un'inchiesta da parte dell'ispettrice Trani, che poi è il personaggio che avevo già fatto conoscere ai lettori nel romanzo precedente, Azzale Rosse. Quindi c'è tutto questo, non si può considerare veramente esattamente un giallo, però sicuramente c'è una bella dose di mistero e di suspense, se vogliamo, nell'accertare ciò che è avvenuto la notte dell'esplosione. Questa esplosione che dà il titolo al romanzo stesso, perché è intorno a questa esplosione che ruota tutta la trama. E la trama, devo dire che questa volta ho voluto strutturarla in maniera un po' più complessa. Effettivamente le tre parti del romanzo sono a loro volta divise in due parti. Nella prima parte c'è la descrizione della giornata di questa ispettrice, la giornata che segue l'esplosione del titolo. Quindi tutta la sua inchiesta, codiuvata dal suo solito assistente che già appariva in Azzale Rosse, Marco Ruggeri, e in questo caso addirittura con un altro ispettore collaboratore, l'ispettore Diodato, che tra l'altro è un personaggio nuovo, abbastanza intrigante, che porta un po' di variazione nell'ufficio della nostra Paola Trani. E quindi ogni prima parte di ogni capitolo è una descrizione del mattino, pomeriggio e sera della giornata di Paola Trani. Quindi a livello temporale praticamente viene raccontata solo una giornata di questa sua inchiesta, anche perché l'inchiesta tratta il fatto di stabilire chi purtroppo è rimasto vittima dell'esplosione di un condominio, un condominio piuttosto faticente alla periferia di Genova, dove è avvenuta appunto nella notte della domenica stasera questa esplosione e il lunedì viene dedicato da questo staff di ispettori alla ricerca della verità. Parallelamente la seconda parte di ogni capitolo in realtà ricostruisce a modo di flashback le storie, le varie storie che si intersecavano, che si incrociavano nella vita di questo condominio che purtroppo è stato praticamente rasato al suolo. E qualcuno mi ha detto, un mio lettore della prima ora mi ha detto sì, è un po' il meccanismo del film catastrofico. Ed è vero, nel senso che raccontando le storie di questi personaggi indubbiamente credo che ogni lettore si affezioni a uno o all'altro, all'altro di essi. e quindi diciamo che tutta la curiosità e l'intrigo sta nell'arrivare finalmente, nelle pagine finali del romanzo, a stabilire chi effettivamente di questi personaggi più o meno simpatici si è salvato dalla catastrofe o no. E poi parallelamente naturalmente scoprire anche che cosa è successo, le cause della catastrofe, visto che questo condominio in questione doveva essere demolito e l'immobiliarista che si occupava di questa cosa non vedeva l'ora di cacciare tutti questi inquilini che continuavano ad affollare il palazzo. E poi comunque in questo palazzo abitava anche un poliziotto che è piuttosto duro e che quindi poteva essere premira di qualche attentato, di qualche cosa da parte di malfattori. Insomma, le realtà anzi che si concentravano in questo agglomerato di appartamenti sono molteplici. Come al solito la cosa che mi intriga di più, mi diverte di più nello scrivere qualcosa, un libro, un romanzo, è cercare di mettere a fuoco il meglio possibile le personalità dei protagonisti, i loro modi di agire e i loro modi di interagire, cioè i rapporti che li legano. E difatti penso di esserci riuscito, perlomeno io rileggendolo sono soddisfatto del risultato, nell'aver creato dei personaggi prima di tutto che alcuni perlomeno ti rimangono dentro. E soprattutto, quello che piace molto a me, aver stabilito tra di loro delle concatenazioni. Ecco, per cui ovvio è un po' esplorare come al solito l'universo degli uomini, delle donne, dei maschi, delle femmine, di quelli più colti, di quello più semplice. Era il condominio che ho preso in questione, che ho inventato, indubbiamente racchiudeva un po' tutti questi generi, i vecchi e i giovani, ecco, le varie categorie che si scontrano. Difatti, come scrivo nell'ultima pagina di copertina, un unico tragico destino è inaguato nella vita di un gruppo di persone, accomunate dal semplice fatto di abitare nello stesso condominio. E queste persone effettivamente sono molto variegate, ecco, nel senso che c'è gli studenti che hanno messo su una band e vogliono partecipare a un tale show, c'è appunto il poliziotto che citavo con moglie e figlia che non ha sicuramente un matrimonio felicissimo, c'è al piano, al pian terreno addirittura una certa contrapposizione tra due inquiline, una addirittura che ha 28 anni e ancora illibata e vive insieme a una nonna terribile e viceversa la sua dirimpetta è addirittura una prostituta. Per cui, insomma, mi sono divertito a creare dei contrasti e dei rapporti. All'ultimo piano abita un professore, è rimasto vedovo da poco, che però non ha ancora perso la sua fede di vita e a completare il quadro una famiglia di extracomunitari, in realtà una famiglia di romeni che lavora e vive in questa periferia genovese. Un'altra cosa che mi è piaciuta mettere in evidenza e che credo, insomma, che salti abbastanza all'occhio, proprio in questa contrapposizione tra uomini e donne, è un po' il fatto come sia gli uomini che le donne trovino modalità di differenti per mascherarsi, per mascherare i propri sentimenti, il loro vero essere. Mentre gli uomini a volte assumono una corazza, una corazza che per dissimulare le loro debolezze, le loro fragilità, le donne, e qui ci sono figure di varie donne, si truccano. Il tema del truccarsi è abbastanza importante in questo romanzo, difatti le varie donne, Ispettrice e Trani compresa, come chi lo leggerà lo potrà vedere, hanno un po' questo un rapporto col truccarsi un po' particolare, la Trani che si dimentica in tutta la giornata di lavoro di truccarsi e lo fa solo a fine giornata. La prostituta che abitualmente si trucca in maniera pesante per motivi di lavoro, si presenta un nuovo amore praticamente senza trucco. è una subrette televisiva, una conduttrice televisiva che anche lei tramite il proprio trucco diciamo crea tra l'altro uno dei momenti più belli secondo me del libro che non anticipo proprio perché insomma chi lo leggerà lo ne potrà fruire. Per cui sicuramente mi è piaciuto mettere in evidenza questo modo diverso di uomini e donne di celare in qualche modo il proprio vero essere, la propria cosa. Poi naturalmente mi è piaciuto anche molto mettere un po' in evidenza il tema dei rapporti tra i vecchi e i giovani, difatti il vecchio professore fondamentalmente ha questi dirimpetai che sono dei giovani musicisti, lui stesso un melomane amante della musica colta e insomma il libro vive un po' di queste storie, di questi contrasti, fermo restando che il tema principale che poi è la matassa che deve sbrogliare la nostra espettrice Trani è quello di stabilire chi di loro si è salvato. Io penso che poi alla fine le cose vengano fuori abbastanza in maniera chiara, c'è chi si salva, c'è chi no, e spero che come avete sempre dimostrato vi possa, la lettura del mio libro, vi possa divertire. Il libro è L'esplosione, la nuova inchiesta dell'ispettrice Paola Trani e la casa editrice Libero di scrivere di Genova. Vi ringrazio dell'attenzione.